Ciao a tutti e bentornati qui sul canale gioco troppo poco, è proprio ora di fare un altro vlog perché ci sono un bel po' di cose da dire. Allora, diciamo, facciamo un sunto, volevo parlarvi innanzitutto delle nuove serie, di come stanno modificando il canale, cosa sono le mie aspettative, che cosa ho notato dalle vostre risposte, insomma sta roba qua. Ma volevo parlarvi del Lucca Comics 2014, chiedendo se verrete, se non verrete, se riusciremo a incontrarci, cosa ho fatto finora e tutte queste robe qua. E volevo parlarvi di una nuova serie, che non sarà una serie regolare, sarà una cosa che verrà un po' così quando ho tempo e avrò voglia. E vedremo il trailer alla fine di questo vlog. Perfetto, cominciamo. Primo capitolo. Allora, cosa ho detto? Ah sì, che avrei parlato un po' delle serie. Allora, Abram è iniziato. Mi sta portando via tantissimo tempo, infatti avete visto che il numero di video che pubblico sul canale è sceso drasticamente a due video al giorno, magari due video alla settimana. Non riesco a far di più. Montare gli episodi con questo nuovo format è per me un lavoro veramente lungo. che va dalle due alle quattro ore, solo per la parte di montaggio. Perché lo rivedi, guardi un pochettino cosa potresti metterci, è un casino. Ma sono contentissimo perché questo progetto mi sta prendendo e mi sta divertendo. non ha ancora preso molto piede, anzi alcuni di voi non è piaciuto, questo mi dispiace, altri invece sono stati entusiasti e pollicioni su per loro. No, scherzo. Ognuno di quello che mi aspetto. Allora, questa per me è una cosa nuova. Un conto era giocare, parlare, commentare, farvi un tutorial su cose che già conoscevo. Un altro conto era fare una blind run, sputare, vomitare parole, tutto quello che mi veniva in mente. E un'altra cosa ancora è pensare a una storia, scriversi gli episodi, registrarli come vorresti che andassero sulla storia che ti sei immaginato. E cambiare magari tutto strada facendo perché il personaggio ti porta a fare cose che non ti saresti aspettato. Quindi ho un grandissimo bisogno dei vostri commenti, delle vostre critiche. Perché io queste robe non le so fare, vi sto improvvisando. Quindi ho bisogno che mi dite cosa vi piace, ma soprattutto cosa non vi piace. Mi aspetto veramente tanto aiuto da parte vostra. Quindi grazie per tutto quello che avete fatto e grazie per tutto quello che farete per far sì che questa diventi veramente una serie particolare e innovativa. Grazie. Chiuso capitolo 1. Capitolo 2. Lucca Comics. Allora, non sono mai andato a un Lucca Comics, però già da tempo pensavo a cosa potrebbe essere un'occasione per incontrarci, per parlarci, per stringerci la mano. Così la cosa che mi viene più spontanea da proporre è quella di ritrovarci in un evento che sia nazionalmente riconosciuto, dove probabilmente alcuni di voi parteciperanno. Quindi Lucca Comics si presta benissimo a questa cosa, anche perché è durante il fine settimana, quindi non dovrei avere difficoltà a parteciparci. Sto ancora prenotando, devo ancora chiedere le ferie. Il mio capo ancora non lo sa, perché almeno il vera di mi serve. L'intenzione di andare c'è, spero di poterci essere, l'idea è quella di darvi appuntamento a un padiglione a una certa ora, poi se qualcuno di voi riuscirà a venire ci si incontrerà, ci si scambierà due battute, e sarò veramente contento se riuscirò a conoscere di persona qualcuno di voi. Come farete a riconoscermi? Perché, vabbè, sì mi avete visto nel video, però lì ci sarà una marea di gente. Allora, lo farete perché, se tutto va bene, io indosserò questa. Mi sono fatto la maglietta! Allora, dicevo, mi sono fatto la maglietta, che è attualmente in vendita online, non vi dico dove, perché purtroppo ho fatto una cavolata, ha un piccolo difetto qua in cima, quindi assolutamente non compratevela finché non vi dirò io che è a posto e che sono sicuro che la maglietta va bene. Ho giocato un pochettino col logo, c'era scritta anche io, gioco troppo poco, e c'è il, questo qua è proprio sulla panza, c'è il QR code per iscriversi al canale. Ero agitato come un bambino quando l'ho vista arrivare a casa. Perfetto, quindi vediamo, la userò anche per fare i video, le prossime live, dovrò lavarla, o coprarmene delle altre, quindi magari se non la vedete sapete che è solo perché è diventata inutilizzabile. Quindi vorrei sapere da voi chi verrà a Luca Comics e se avrà interesse a incontrarmi, o ci, perché saremo in più persone spero, e io dovrei andare giù sabato e domenica. Sabato sarò giù tutto il giorno probabilmente, domenica pomeriggio ripartirò per casa, quindi pensavo di fare l'incontro di sabato. Cercheremo in qualche modo di fare, di trovarci. Sappiate che io non sono mai stato a Luca, non sono mai stato a Luca Comics, se avete delle idee, se avete una proposta per aiutarmi a far sì che ci possiamo incontrare in qualche modo, scrivetela qui sotto, bravissimi, bravissimi. Ok, terzo punto, nuova serie. Perché non fai Skyrim? Giusto, bravo, bella domanda. Bravo, chi è stato? Ah, bravo. Ok, Skyrim lo faccio. Skyrim l'ho già iniziato a registrare, è venuto una merda, perché mi scatta il gioco, perché non ho ancora ben chiaro che tipo di personaggio vorrò interpretare, quindi sappiate che ci sto lavorando, sto facendo delle prove e quanto prima comincerà la serie. Quella che vedremo è una cosa che ho preparato, credo ormai, da un mese, forse addirittura due, ce l'ho lì, avevo messo, registrato, avevo solo da mettere insieme i pezzi, non sarà una serie regolare, cioè nel momento in cui avrò tempo e voglia di registrare una nuova puntata, lo farò e basta, vi lascio semplicemente al trailer. Il video uscirà, sto sperando, mercoledì. Il mio nome è Brian e sto morendo. Queste sono le mie ultime parole. Non so per chi le sto dicendo, ma parlare è l'unica cosa che mi tiene ancora in vita e mi permette di andare avanti. Sono stato mandato all'Accademia della Magia, pensavo che lì avrei trovato amici, avrei trovato qualcuno che mi capisse, che capisse la mia diversità. Mi sbagliavo. E allora ho rubato una mappa che mi avrebbe dovuto portare in un posto dove i più grandi maghi del mondo si riunivano per celebrare la magia, per studiare, per accogliere chiunque. ma penso che il mio viaggio termini qui. E quant'altro ci vedremo al trail. e il... ... ... ... Grazie a tutti.